Saluto a tutti amici, benvenuti con questo video, io sono Salopimpos e oggi siamo di nuovo su The Dark Book L'ho portato ragazzi un casino di tempo fa, il primo episodio Ora il gioco è stato molto molto migliorato e quindi eccoci nuovamente qui Il gioco è sviluppato da Michele Salvatore Bunetto, che saluto Ed è un gioco tutto italiano ragazzi, un RPG tutto italiano Dove praticamente impersoniamo questo suto scheletrino ragazzi Guardate che figo, guardate come cammina, come il chi so tutto io Come in tutti gli RPG classici ovviamente avremo un bel po' di cose da tenere in considerazione Ovviamente per adesso non abbiamo niente, ma comunque dovremo migliorare le nostre statistiche Andando avanti con il gioco, poter aumentare di livello, esperienze eccetera eccetera Comprare armi eccetera eccetera Vabbè andiamo a vedere, non te te parlo, vi faccio vedere il gioco Ok, parliamo con Skeleton Ercher Ciao tizio, ciao Ciao sei nuovo di qui vero? Sì Il tuo nome se non sbagli è salvo, giusto? Sì Allora lascia che ti spieghi alcune cose Ti starai chiedendo come mai ti ritrovi qui? Nelle terre di Morgoth sono cambiate molte cose Esiste un libro chiamato Il Libro Oscuro Un libro creato da un mago malvagio millenni fa Il libro ha un potere oscuro che a poco a poco ha riportato in vita i morti Adesso non sappiamo di preciso chi abbia il libro, ma tutti lo vogliono Noi dobbiamo impadronircene, prima che qualcuno ci riporti nelle nostre tombe Perfetto, ti aiuterò ad iniziare il tuo viaggio Va bene, che mi dai? Questi sono dei doni da parte mia, ottimo Prima di iniziare a cercare il libro oscuro hai bisogno di esperienza e pratica Un'orda di folletti si è stabilita fuori dalle mura di Dawnsloven Town Perfetto Guidati da Red Goblin ne sono intenti ad impossessarsi della nostra città Uccidi Red Goblin e il resto dell'orda si disperderà Questa è la tua prima missione Oh, torna da me dopo aver compiuto il compito che ti ho assegnato Elimina Red Goblin Perfetto, dammi tutto, dammi Dammi qua, piccola pozione salute Pozione salute Uno scudo di legno E una sacca di monete 350 Perfetto Quindi, qui abbiamo il mercante Benvenuto Vediamo se possiamo comprarci qualcosa con 350 monete Allora, elmo di legno Spagliere di legno Scudo di legno Noi attualmente abbiamo uno scudo di legno, sì Con 8 di difesa E qui c'è uno scudo verde però Costa 320 Spada leggera Attacco 18 Noi abbiamo un pugnale da attacco 14 Piccola pozione Piccola pozione magica E martello riparato Che ne dite se ci compriamo un bellissimo scudo verde? Va, perché ho bisogno di più protezione Va E intanto quello di legno per adesso me lo tengo Perché non si sa mai quello... Perché ragazzi qua si rompono gli oggetti Quindi se vi si rompe totalmente potrete ripararlo grazie ai martelli Mercante Fai vedere i martelli mercante I martelli che possono essere acquistati per 150 monete C'è anche l'opzione qui ragazzi Cliccate sul più qui Potrete acquistare martelli infiniti Per la cifra di 3 euro Va bene Ok Siamo abbastanza equipaggiati adesso Direi di sì Quindi Aspetta perché dobbiamo equipaggiare prima lo scudo verde E qui va Guardate che figo ragazzi È sempre figo questo scheletrino Più passa il tempo Più scheletrino è figo Va bene Basta con le chi... Equipaggiato Equipaggia sto scudo Eppure la spada non ha equipaggiato niente Li trovi a terra Equipaggiali Non aspettare Perché io mi scordo le cose e poi tu muori Ok non abbiamo più altro da equipaggiare Direi che possiamo uscire Allora Ciao morte Ciao morte Spero di non vederti mai Perfetto Usciamo dalle mure del castello Andiamo Con questo prendiamo a colpi di arma I controlli sono molto migliorati Rispetto all'ultima volta che ho provato il gioco Quindi Vediamo adesso come attacchiamo Se effettivamente Vieni qua Goblin Eh sì effettivamente I controlli sono molto migliorati Nella prima versione Muori Muori Durante la prima versione Capitava che gli attaccassi Oltre il bersaglio Il bersaglio dietro Gli attaccavo davanti Adesso sì È molto più giocabile Direi che Vieni qua Goblin Maledetto Muori 26 gold Ok quindi Oltre all'esperienza Potremo acquisire oggetti Oltre alle monete Potremo acquisire anche Vari armi Eccetera eccetera Tutto quello Praticamente tutto quello Che possiamo trovare Dal negozio Anche se è un po' più raramente Muori goblin Perché stai qui A rompere le scatole Alla città Tanto io sono un guerriero Scheletro che vi uccido tutti Se per caso Trovate un gruppo di goblin Ragazzi Recupera salute Nuova magia E vediamola sta magia Magia Recupera salute Perfetto Assegna Ottimo Adesso possiamo recuperare salute Quindi ragazzi Potremmo sbloccare Anche le magie Ecco qui Spagliera di legno E mettiamoci pure La spagliera di legno Forza Mettiamoci tutto Allora Zaino Scudo di legno Spagliera di legno Più 5 Mettiamo Mettiamo tutto quello Che troviamo per strada Ragazzi Non vi scordate Guardate che figo Con le spagliere messe Bellissimo Ok Ecco Dicevo Se un gruppo vi attacca Cercate di attirare Un solo goblin Per volta Un'altra spagliera Meglio così Ce la vendiamo L'eccesso Quindi cercate di attirare Un solo goblin Per volta Così è più facile Combattere Muori goblin Dammi l'exp Eccolo lì Il rosso Il goblin rosso Cerchiamo di attaccare Uno per volta Però ragazzi Quindi uno per volta Rosso vieni qua Bravo 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 rosso Che ti spacco La cornicina ti spacca E questo è più forte Muori rosso Muori rosso E muori Elimina il fatto Che mi dai Una bella spada leggera Ottimo Mettiamocela La spada del goblin Quindi sarà più potente Sicuramente della mia Spada leggera 18 di attacco Vorrei ben dire Equipaggiamola Va bene Curiamoci Con la magia Perché Ho subito un po' Troppi danni Direi di combattere Un altro po' Ragazzi Perché nonostante L'obiettivo L'abbiamo completato In questo gioco Più combattete Più salite di livello E più salite di livello E più facile Diventerà proseguire nel gioco Ma direi che è obbligatorio Secondo me In questo tipo di giochi Salire di esperienza Lottando un po' A caso È direi essenziale Quindi ammazziamo Goblin Finché ce n'è Vieni qua Goblin È arrivata la tua ora Che c'è una spada Che ti distrugge Prendiamo tutto quello Che possiamo prendere Però sappiate che C'è un limite Agli oggetti Ma l'hai detto Da dove sei spuntato C'è un limite Agli oggetti Che possiamo trasportare Il tutto dipende Mori Goblin E fammi spiegare le cose Il tutto dipende Da questi quad Questi parametri Tra l'altro Abbiamo tre punti Da assegnare Quindi Un attacco Uno Velocità Velocità attacco E uno Agli HP Come potete vedere Abbiamo anche Un valore peso Quindi più punti Assegnerete A questo parametro Più oggetti Potrete trasportare Ragazzi Vieni Goblin Muori Ma lì Qual tizio aveva detto Che se avessi ucciso Il Red Goblin Tutti se ne sarebbero Andati a casa Come che ce ne sono qua Una quintalata Distruggiamo tutto Ecco Una cassa Prendiamo quella cassa Cassa distruggiti Prendiamo le monetine Goblin muori Goblin sto esplorando Qua la città Il fuori L'esterno Della città Quanto meno Ok Qua facciamo soldi Appalate Goblin È arrivata la tua Ora di Goblin Nuova magia Teletrasporto Mettiamola pure Teletrasporto Una via veloce Per tornare in città Ottimo Intanto la segniamo Va Però continuo comunque Ad esplorarmi la zona Perché ci sono altri Goblin Che vogliono morire Elmo di legno E infatti Meno male ragazzi Avete visto Possiamo trovare di tutto Gratis Elmo Equipaggiamo l'elmo Equipaggiamo l'elmo Che è carino 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 Ok Vediamo se ce ne sono ancora E Goblin Ma quanti ce ne hai sti Goblin Direi che forse li ho uccisi tutti Credo di sì Quindi possiamo Tranquillamente Tornarci a una casina Vediamo Che cosa mi danno Tizio Ho ucciso il Red Goblin Che mi dai? Dammi due miliardi di monete Tizio dove sei? Tizio Che è? Che mi dici? Ben fatto Potresti essere l'eroe Che stavamo aspettando Sembra che io abbia avuto ragione su di te Prendi questo come una piccola ricompensa Per i tuoi sforzi Mentre esploravo The Western Valley Uno di quei Goblin Mi ha salito E ho perso il mio cappello Sicuramente l'avrà uno di loro Non so di chi Non so chi di preciso È molto importante per me Riportamelo E ti ricompenserò Ottimo Uno dei Goblin ha il mio cappello Ritrova il cappello iscreto Va bene Che mi dai qua? 350 gold Perfettissimo Allora Vediamo qua Che cosa possiamo comprare Con 661 monete Compriamoci un paio di martelli Va Per sicurezza Ce li portiamo Non si sa mai Qualche cosa si distrugge Durabilità Pugnale Pugnali Ne abbiamo due Uno ce la possiamo anche vendere Volendo Uno lo teniamo di scorta Non si sa mai Una spada mi si distrugge E questo pugnale Che si sta distruggendo Lo vendiamo pure Ok Abbiamo altre 485 monete Qua credo di aver preso Di aver fatto tutto Elmo di legno Ok Compriamo una pozione magica Così Per tenercela di scorta Spadeggia Poi abbiamo tutto Direi che possiamo proseguire Però effettivamente Sto scudo di legno Ma che ci facciamo? Tanto ce lo ripariamo Quello verde Vendiamo tutto Ok Adesso siamo prontissimi Cliccando la mappa Possiamo vedere la mappa Ingrandita Ok Ciao morte Che mi devi dire morte Non ti ho mai visto da queste parti Dai un'occhiata al villaggio Torna da me Quando sarai pronto No tranquillo Non sono pronto per morire oggi Tranquillo Rimani lì impalata Come una mummia Andiamo Usciamo dalla città Vediamo se riusciamo A recuperarci questo cappellino Qua dovrebbe esserci Qualche altro goblin Sicuro Eccolo lì Goblin ma che fai? Qua c'è pure l'accampamento Di goblin addirittura Goblin muori Goblin muori Ok Nel fuocarello Ragazzi si trovano i ragazzi Ragazzi si trovano sempre Venomale si trovano sempre Quindi possiamo farci un bel po' di soldi Vendendoli C'è niente qui Non c'è niente Possiamo uscire Andiamo 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 forza Forza sono curiosissimo Di andare avanti The western valley Chi c'è qui A rompermi le scatole Altri goblin Goblin Vieni qua Che è arrivata la tua ora Va bene Una pozione salute Prendiamola Là c'è un bel po' di cose Casse Come ci si andrà in queste casse qui Adesso lo scopriremo Forse Muori goblin Che andiamo a prendere le casse Muori goblin Di qua è tutto chiuso Posso spaccare qui no Facciamo il giro allora Goblin C'è C'è Muori goblin Muori goblin Questo gioco è veramente uno spettacolo Quando l'ho provato tempo fa Mi era piaciuto Ma adesso ancora di più Quindi sono più Propenso a portarlo avanti ragazzi Ovviamente sempre se voi lo volete Quindi fatemi sapere nei commenti Se volete una serie E ovviamente lasciate tanti like Io sto per morire però Intanto Devo andarmi a prendere le casse Goblin Levati Curiamoci va Curiamoci Ripristiniamo un po' di energia Una cassa qua Distruggiamola Qua che abbiamo Una carriola Aiuto goblin Troppi goblin Ma intanto li devo affrontare Morite goblin Con un colpo prendo tutti e due Perfetto Bravissimo il mio scheletro E' super potente Qua che abbiamo niente Qua Non ci si può entrare E dove ci vado io In quel campo pieno di cose Ah ok da qua Goblin muori Goblin muori Andiamo di qua Ovviamente qua sarà invaso di goblin Sicurissimo Eccolo lì Muori goblin Si è Si è rotta la spada Si è rotta la spada Ma posso mettere pausa così? Si Perfetto Si è rotta la spada Allora aumentiamo un po' Attacco e attacco due Grazie Sono senza spada Ok spada leggera rotta Vediamo se possiamo ripararla Ripara Ottimo Ragazzi portatevi i martelli Perché sono la vostra salvezza Sono Quindi equipaggiamola Sono la vostra salvezza Ragazzi Portatevi i martelli Adesso non fate più i furbetti Visto che ho la spada Vero? Ho la spada super mitica Morite Maledettissimi Ok Ripristiniamo un po' di salute Direi di assegnarci questi punti Attacco Sempre più uno Peso lo mettiamo stavolta Velocità di attacco Così siamo un po' più veloci Ad attaccare Ok Nemici sconfitti Qua c'è un resoconto Di tutto quello che fate Quindi attualmente Siamo a livello 3 Perfetto Andiamoci a prendere le casse Me le date ste casse Datemi le casse Voglio le casse Camminiamo piano Perché qui si nascondono i goblin Come le formiche Ce ne sono qui Eccolo lì Goblin Due goblin Goblin morite Goblin morite Mori Questo era più duro Ma è un po' di mie Va bene morti Sacca di monete 42 Questo che è? Un prosciutto a terra No Una pietra Di qua Quanto è lungo sto percorso? Ok Siamo stati ben ricompensati però Piccola salute Prendiamola Poi Elmo di legno Prendiamolo Scudo Ma ho tutto però Ho tutto Già Oh perfetto È una pozzia magica Va bene Meglio così Meglio così Mi lampeggia qui Andiamo avanti Andiamoci di nuovo da qui Ce ne sono qui Goblin Non ho paura di voi Non ho paura di uccidervi Goblin Perché devo fare un sacco di esperienza In questo gioco Dovevo diventare il migliore del mondo Là c'è una porta E credo che dobbiamo andare da qui Eh però lì ci sono dei goblin Ammazziamoli i goblin Se ce li hanno messi Ci sarà un motivo Devono morire Il problema è che qui è tutto chiuso Goblin Questo è risuscitato però Questo l'avevo ammazzato io Com'è che è risuscitato? Qua che c'è una bella fontana Allora non c'è venuto qui Una fontanella Qua una cassa Distrugge No Un tronco Un altro goblin qui Goblin È arrivata la tua ora Spalliere Buono Buonissimo Qua c'è un accampamento di goblin Muori goblin numero uno Due goblin Tre goblin Accampamento di goblin Che mi stanno ammazzando però Muori goblin E curiamoci 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 Ok pozione magica Un'altra spada leggera Ottimo Ammazziamo anche questo Muori goblin Muori goblin L'energia è un po' scarsa però Perfetto Qua non c'è nulla Goblin Ma quanti goblin ci sono Allora aspettiamo Ok ecco qui il cappello Perfetto Perfetto L'abbiamo trovato Perfetto L'energia è un po' scarsa Ancora Ma quanti ce ne sono qui Muori goblin Che mi dai Niente L'energia è un po' scarsa Ok un'altra cassa Apriamo la cassa Pugnale Pugnale Ce ne sono altri Credo di no Direi di utilizzare il teletrasporto Così ce ne andiamo in città Via di teletrasporto Fighissimo Salvataggio va bene Tieni tizio ti ho portato il cappello Dai Tienitelo Ok uno dei goblin Va bene Completato Ottimo Grazie ai tuoi servizi Questa è da parte mia Che mi dai tizio Parla con Naraco O Naraco Ricordo che aveva bisogno di una mano Riguardo una gemma O una cosa simile Il mio compito è finito Va bene Va bene Prendiamo questa gemma qui Cos'è Sol gem Perfetto Gemma degli anni 400 gold Ottimissimo Vediamo qua Compriamo assolutamente un altro martello Perché già uno l'abbiamo utilizzato Ma anche due volendo va Che sono utilissimi Quindi due martelletti Ci vendiamo Un elmo di legno Un pugnale Assegniamo questi punti Una Sempre Una alla difesa Una alla difesa stavolta Un'altra in velocità attacco E un altro HP Ottimo Conferma Perfetto ragazzi Gioco molto migliorato Quindi vi consiglio assolutamente Di provarlo E fatemi sapere nei commenti Se volete portata una serie Al solito quindi se vi è piaciuto Lasciate un bel like Vi ricordo che potete seguirmi Anche se vi è piaciuto Facebook Twitter Instagram Tutti i social DQ Trovate il link In descrizione Iscrivetevi al canale E più di tutto Nel prossimo video E oggi torniamo su The Fear 2 No torniamo Cioè torniamo nel senso Che tempissimo fa Ho fatto il primo The Fear Quindi oggi siamo Su The Fear 2 Quindi ragazzi Marta è tornata Più incacchiata E più brutta che mai